Ma non sanno più cosa inventarsi editori a pagamento. Dunque, una volta gli editori a pagamento vi domandavano direttamente 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro. Poi, anche grazie appunto a gente che cerca di appunto sensibilizzare gli autori a non pagare, gli stampatori, perché questi sono, allora hanno girato la cosa e nel contratto dicono che bisognerebbe acquistare 50-100 copie per cominciare a promuovere. Perché se non ti promuovi tu, se non credi tu nel tuo lavoro, chi può crederlo? Bene, e anche questo è stato superato e adesso praticamente nel contratto domandano o di partecipare alle spese di amministrazione oppure di pagare l'editing correzione di borse. Io ho visto dei contratti, ho visto perché magari tipo studenti, persone che abbiamo aiutato con l'editing, e l'importo comunque delle spese amministrative piuttosto che dell'editing non include soltanto le spese amministrative o l'editing ma, dato che appunto è sostanziale, secondo me comprende un po' tutto l'investimento. Quindi rimane comunque un editore a pagamento, cioè nel momento in cui un editore vi chiede un euro, un euro. Anche se non sono 500, 1000, 2000, vi chiedo un euro, è un editore a pagamento, tanto più che non vi chiederà un euro perché, ripeto, praticamente quello che mi sembra di capire è che i soldi che vi domandano, cioè che domanda l'autore, sono quelli che poi va a investire quindi nella stampa, nell'editing, correzione di bozze, grafico e magari ci fanno anche un piccolo ricavo. Quindi, mi raccomando, non accettate mai contratti dove questi editori vi domandano soldi. Grazie a tutti.